Sessamo, guardate che meraviglia che ciò sta chiesto, pure un'ideosi, fai il trionfo, perché sono loro e comincieremo il nostro reso di musica, sono loro, sono ragazzi, i musicisti, sono loro che ti hanno aiutato a tutti i giorni a fare tutte quante le serie con la loro musica, tutti insieme, tutti insieme, vengono tutte le parti del mondo, non sono mai unitario, la Anyway, io sono mai da Minteria, la Faunio, la Sarasborne, la Scft, la Sunya, la Luch yeari, vedete qui il maestro di musica, Pavolosi, Glacce! Ancora questa sera le vedremo con il forteくださいo e chi pure habarsconiamente. E gli spettacoli, tanti di voi mi hanno fatto dei complimenti, io ho spettacolo, si non l'ho mai visto in vilania, e vedrete questa sera, è vero o no? Sì o no! E' una forza, la biblioteca in questo meraviglioso quarto rispondo che ci ha avuto con loro che possono migliorare la sinistra per lezze e' un piano, vedi che c'è in piazza sono loro, quasi tutti per i sandici, con la cantanza italiana un orgoglio tra nostra che troppo lo vede che meraviglia, questa sera è un spettacolo, è un spettacolo è un modo straordinario, vieni qui Giovanni, lui è l'unico e solo ma è rappresentante di tutti i tecnici grazie al suono, alle luci al backstage, sono nascosti ma gli interessati, favolosi il mio arte lago, è l'unificessa incredibile, direttamente da Pitta, a Cazzo Maversale olè! Il cuore, il cuore centrale pulsante di questa meravigliosa nave come dicevo, dalle 7 da mattina fino alle 2 di notte per i grandi e per i vicini, sono loro le gambe della zona della costa mediterranea, sì! di questa meraviglia, la mia colonna di questo Eccoli qui, favolosi, fantastici tutti quanti per voi che meraviglia, che meraviglia fantastici! Eccoli qua! Una cosa vi voglio dire lui, capo e ricorda a lui gli ho detto stai attento, non lo fare, non lo fare, lui ha detto no, lo voglio fare, mi ha fatto di fare, perché? Io a settembre lo voglio fare, non me lo fa, ha detto non lo fa, stai attento, no dice a settembre lo voglio fare, lo fa o non lo fa, lo dovrebbe fare o non lo dovrebbe fare, sì o no? Allora chi dice no alzi la mano, giù, chi dice sì alzi la mano, chi non ci ha capito niente alzi la mano, perfetto, chi dice la mano? Si sposa a settembre, è facile, è chiaro, figurati, fa l'animatore, il capo animatore sulla nave di lucera, appunto ho detto, e fanno con me non 200, ma guarda, ho detto niente di più facile, più che fa il capo animatore sulla nave di lucera, chissà quante occasioni gli capito, no con tutte quante le donne che vengono qui in vacanza, invece lui no, lui il padre se lo porta da casa, eccola lì, è lei Rachele, è lei, è lei, è lei.